Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono sposati lo scorso weekend in India e continuano ad arrivare nuovi dettagli.Dopo l'epica sfida di canto e ballo tra famiglie a cui ha partecipato anche Sophie Turner, il magazine di Mumbai Filmfare ha svelato che gli sposi hanno fatto servire una torta di nozze di ben 5 metri durante la cerimonia cristiana che hanno tenuto sabato 1 dicembre e che è stata ufficiata dal papà del cantante.One of the most special things that our relationship has given us is a merging of families who love and respect each other's faiths and cultures. And so planning our wedding with an amalgamation of both was so so amazing. An important part of the pre-wedding ritual for the girl in an Indian wedding is the man.On c'è again we made it our own and it was an afternoon that kicked off the celebrations in the way we both dreamed. Chiocciola Nikonasa post shared by Priyanka Chopra Chiocciola Priyanka Chopra on the Kuno, 2018 at 731 Ems secondo il magazine. Nick ha portato in India il suoi chef personali per preparare il dessert.Gli stessi cuochi hanno preparato il banchetto della cerimonia Hindu che è stata celebrata domenica 2 dicembre, dopo aver acquistato le materie prime in negozi locali. Il Bombay Times reporta che il matrimonio Hindu è stato preceduto da una lunga colazione.Dopo il rito tradizionale, Nik Jonas e Priyanka Chopra avrebbero fatto un giro a cavallo di un elefante, nel giardino dell'incredibile palazzo chiamato Tajumai Dabawan che hanno affittato per il matrimonio.Hai letto che il fratello di Nik, Joe Jonas, si sposerà nel 2019.P.H. Getty Millis Sous-titrage Société Radio-Canada